Ciao a tutti e benvenuti qui su Lega Nerd per ricominciare un po' questi veloci, questi pochissimi, questi velocissimi minuti in cui io vi racconterò la serie Star Wars del momento, ovvero The Bad Batch che inizia oggi, ovvero martedì 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day sono fresco fresco del Force at Home, ringrazio Lega Nerd per aver condiviso l'evento di Empira di Star Wars Libre Comics stamattina abbiamo visto in diretta la prima puntata, il pilot di The Bad Batch, nuova serie animata di Dave Filoni nonché sequel di The Clone Wars allora, cerco di essere il più assiutto possibile per raccontarvi che questa serie è una cosa che mi ha stupito molto mi aspettavo forse più o meno come The Clone Wars, in realtà non ho il massimo dell'hype per le serie animate ma di questo avevo notato questo trailer un po' scuro, un po' veloce, un po' power, un po' anche cresciuto come prodotto animato marcato Star Wars e così è stato, è stata una grandissima sorpresa 72 minuti di cartone animatico ormai il cartone animato è sempre più lontano da quello che noi guardiamo le serie animate chiamatele come volete che mi ha completamente stupito ho visto tantissima attenzione, tantissimo impegno nel realizzare una sorta di versione adulta, maturata più grande, più dark perché siamo in territorio imperiale, non più della Repubblica per cui anche la tonalità di quello che vediamo è molto più grigio, molto più oscuro, molto più dark abbastanza serio, abbastanza, non dico, non ha un target cioè nel senso non è che i ragazzini non lo possono vedere sia chiaro ma comunque cominciamo subito con un po' di slappe nei denti è abbastanza serioso, è abbastanza action si prende un sacco di tempo per raccontarsi, raccontare e aggiornarci soprattutto perché probabilmente questo The Bad Batch a quanto pare è il primo prodotto molto più inquadrato di questo nuovo corso di Star Wars The Mandalorian 1 e 2, come la stagione 7 di The Clone Wars erano un po', per quello che riguarda The Clone Wars, forse la chiusura di un percorso The Mandalorian 1 e 2 lo sperimentare su come andare in un nuovo percorso mentre questo The Bad Batch si afferma come inizio, spero che continui, su questa strada di questo nuovo corso Star Wars Disney Lucasfilm cioè un qualcosa di molto più concreto, molto più strutturato che mi ha ricordato molto di più le serie TV Marvel che abbiamo visto fino adesso che The Clone Wars stesso e The Mandalorian viene raccontato tutto, ci viene aggiornato per cui non è così obbligatorio farsi a pari certo se volete scavare un pochino di più dovete guardarvi un po' di puntate di Clone Wars dovete guardarvi Episodio 5, la settima stagione di Clone Wars soprattutto gli ultimi quattro episodi però non è così obbligatorio perché abbiamo questo assortito gruppo di cloni particolari diversi molto interessanti, molto ben strutturati che ci racconteranno senza sorbire l'effetto spiegone senza drogarci con questo modo di raccontare lo spiegone che delle volte, ecco il momento spiegone ci viene raccontato in maniera molto sensata, molto strutturale, molto coerente con chi ci racconta queste cose non sto a entrare nel discorso vediamo personaggi già conosciuti non è uno spoiler, lo si vede già anche nel trailer qualche sorpresina molto interessante ma soprattutto un tono estremamente estremamente figo e bene augurante per ora le poche persone con cui ho parlato in realtà un qualcosina si, se ne è già parlato durante la live durante i momenti morti della live che stiamo facendo tuttora sui nostri canali di Empira Star Wars Fan Club e Star Wars Libri e Comics comunque il 4 maggio se guardate questo video il 5 maggio non ci saremo più ho notato che c'è grande entusiasmo per questa serie anche da chi non era poi così convinto o chi come me non riesce a empatizzare con le serie animate dimenticate tutta questa parte negativa godetevi questa serie perché è veramente estremamente interessante e soprattutto i personaggi sono molto interessanti e molto ben scritti è un prodotto di filoni però un filoni maturo non è più quello che abbiamo visto fino ad ora c'è tanta attenzione oserei dire che è quasi un prodotto perfetto da manuale scritto, raccontato, diretto in maniera incredibile non incredibile, non voglio esagerare scritto molto bene diretto molto bene con una colonna sonora strepitosa degna del cinema molto articolata bella dark ci sono diversi momenti anche da ciccia di gallina da pelle d'oca molto pesanti una regia molto curata non è assolutamente paragonabile a tutto quello che è stato Clone Wars lo dico, l'ho reddetto e lo ridirò ancora ha molto poco a che vedere con quel tipo di immaginario anche a livello estetico soprattutto a livello estetico abbiamo un sacco di primi piani ma primi piani pesanti in cui vediamo il dettaglio del disegno il weathering nel disegno stesso che rende tutto molto più profondo molto più interessante a volte ho avuto la percezione quasi che non fosse neanche una serie animata questo è il miglior complimento che io posso fare a me stesso per cui prodotto di altissimo livello serie animata che parte secondo me e secondo molti col botto è strepitoso è un sogno è qualcosa di incredibile ma questo lo lascio giudicare da voi sicuramente è una grandissima sorpresa personalmente inaspettata anche se il trailer un po' mi aveva dato fiducia in questo senso ed è quello che ho visto per cui un prodotto con due marroni così bello solido che ci va a raccontare un'altra storia nuova in un periodo che più o meno conosciamo ma a quanto pare è il periodo in cui Lucasfilm e Disney vogliono vogliono mostrarci sempre di più perché hanno capito che lì probabilmente c'è la gallina dalle uova d'oro detto questo ci vediamo questo venerdì perché il secondo episodio uscirà venerdì per cui questa settimana due episodi 4 maggio l'inaugurazione lo Star Wars Day Worldwide e quest'altro venerdì che sarà 4, 5, 6, 7 venerdì 7 maggio ci sarà il secondo episodio chissà quanto durerà questo ne dura un sacco e ve lo gustate un sacco bello a voi ci vediamo mi raccomando alla prossima puntata bello a voi The Bad Batch ah su Disney Plus logico no?